Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e l'acquam accesi. Stavolta voglio raccontarvi una cosa che mi è successa oggi che ha del commovente, ok? Una cosa che mi ha fatto pensare e riflettere abbastanza. Allora ero in palestra e no, non è questa la cosa commovente, anche se è vero che quando vado in palestra passo più tempo a fissare il pavimento per cercare di capire come siano riusciti a rovinarlo, perché ci sono delle crepe, cose del genere, passo più tempo a cercare di fare congetture su come abbiano fatto ste crepe che a fare pesi o comunque i cavi, nella sala dei cavi dove vado io di solito. Comunque ero nella sala dei cavi, c'era una saletta piccola insomma, c'era un'altra persona, una persona di una certa età e a un certo punto, chiaramente eravamo in silenzio, a un certo punto entra un'altra persona, sì insomma una persona anziana diciamo così, distinta, molto distinta e avete presente quelle persone che parlano, parlano sempre, ok? Quelle che non stanno zitto un secondo, che parlano anche ad alta voce per attirare l'attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Se una nostra persona entra, evidentemente il tipo che c'era già là, era un suo amico, incominciano a parlare, o meglio parla solo lui. E incomincia chiaramente a parlare di covid, a parlare di guerra, insomma di tutte ste cose qua. Io chiaramente ero in silenzio, volente o dolente, ascoltavo, perché, cioè, la stanza dei cavi non è neanche grande, quindi ero là che ascoltavo. A certo punto, dopo aver parlato di covid, dopo aver parlato di guerra, ha cominciato a dire, ha detto una cosa tipo, eh sì, come sai mia moglie è morta da poco, quindi adesso comincerò a viaggiare. E là mi sono bloccato un secondo, perché quando ho detto mia moglie è morta da poco, non ha cambiato minimamente il tono di voce, ok? E allora pensavo, cioè, magari un argomento del genere, pensavo che cambiasse il tono. Sono rimasto un po' così, a un certo punto ho detto, ma pensavo tra me è morta la moglie, una moglie di un altro, perché parla di sta cosa come prima parlava della guerra, insomma, del fatto che secondo lui ci bombarderanno tutti, come si dice, bombarderanno tutti. E comunque, vabbè, un po' di queste cose aveva detto mia moglie è morta da poco, quindi adesso comincerò a viaggiare, voglio vedere la Sardegna, ha detto, voglio vedere la Svizzera, un po' di posti. Vabbè, sono così, io continuavo a fissare il pavimento, il mio sport, a casa fisso il nulla, in terrazzo fisso il nulla, e a un certo punto l'amico se n'è andato, è rimasto lui. Appena l'amico se n'è andato lui non ha più parlato, ok? Non ha più parlato, in silenzio, di tomba, cose del genere, tra me e me pensavo, questo, questa parlantina sicuramente qualcosa, cioè, comincerà a parlare con me. Allora, mi sono a un certo punto, tra un cavo e l'altro, mi sono avvicinato alle vetrate, guardavo fuori e vedo che lui si avvicina, si avvicina a me e io, tra me e me, ho pensato, adesso comincia il pippone, mi farà un discorso lunghissimo su chissà cosa e cose del genere. Quando di solito succedono queste cose, ok, io cerco di prevenire la cosa magari con una battuta, con una cosa del genere, però c'è anche il fatto che riesco sempre a dire la cosa sbagliata nel momento peggiore. Quando si era avvicinato volevo prevenirlo e dire no, stavo guardando fuori perché volevo vedere se mi avevano bombardato la macchina, una cosa del genere, insomma, per fare una cagata di battuta, dato che prima parlavano di questo. Però sono stato stranamente in silenzio, perché lui guarda fuori e a un certo punto, senza proprio rivolgersi a me, proprio guardando fuori, ha detto, sta cosa qua. Ha detto, sì, ok, viaggiare, però quanto bello era fa, quanto bello era quando c'era ancora mia moglie e stavamo in divano a guardare le serie tv, che a me non piacevano neanche, ma a lei piacevano tanto, e non ce ne fregava niente di viaggiare, stavamo bene così, da tanti anni. E quando ho detto sta cosa, a me si è gelato il sangue, ok, a me sono rimasto così e non sapevo letteralmente cosa dire, perché comunque è passato dal, mi ero fatto un'impressione di lui, proprio uno che parlava troppo, parlava ad alta voce, voleva tirare l'attenzione, una cosa del genere, e a un certo punto mi dice sta cosa e sono rimasto così, mi sono girato un secondo, ho accennato un sorriso di quelli pieni di tristezza, che mi riescono bene, lui mi ha guardato un secondo e se ne è andato. E devo essere sincero, dopo ho pensato veramente a tante cose, perché a volte quando succede qualcosa, un lutto, quando succede un abbandono, uno pensa che l'altra persona debba stare in silenzio, debba vivere il dolore improprio, stare in un angolo, stare appartato proprio, che lo devi vedere, che è triste, cose del genere, però c'è anche chi magari indossa una corazza, c'è anche chi, per affrontare comunque la vita di tutti i giorni, per affrontare questo dolore, reagisce andando fuori, parlando, parlandoci sopra a sto dolore, ok, reagisce in maniera esagerata, proprio perché no, che si vergogna, ha pudore di quel dolore, e quindi riorganizza la vita, fa tutto subito, vai di qua, vai di là, però dopo quando rimane solo, quando rimane da solo, quando non ha qualcuno con cui parlare, quando non... si pari o cala, allora viene fuori tutta la malinconia, tutta la tristezza, tutta... tutti i desideri, quando ha detto cosa ce ne fregava di andare in giro, stavamo su quel divano, guardavamo la tv, come a dire che il mondo loro era quello, il mondo loro era un mondo di due persone, che bastava, e ripeto, mi ha fatto pensare, perché ci sono diversi modi comunque di reagire a un dolore, e non c'era uno sbagliato, uno giusto, ognuno reagisce a modo proprio, in un modo suo, e io me l'ho fatto un'impressione sbagliata, questa è la verità. Alla fine puoi reagire in un modo, puoi reagire in un altro, ok, però dopo di che, quando rimani da solo, magari di notte, quando rimani da solo, quando non hai qualcuno con cui parlare, non sai come riempire gli spazi, ok, tra un amico e l'altro, tra un'uscita e l'altra, in quel momento il dolore arriva fuori, e in due secondi magari davanti a uno sconosciuto dici quello che ti manca, dici quello che vorresti, dici che in fondo a te regava solo una cosa, e sta cosa ammetto che manca un po' commosso, un po', un po' tanto, per come l'ho fatto io, perché fa vedere quando cadono le difese che una persona tira su, e viene fuori quello che veramente uno vuole. Quindi queste parole le dedico a una persona, a un uomo, distinto, di una certa età, e comunque davanti a una persona perfettamente sconosciuta che stava facendo anche una gaffa tremenda, al sottoscritto, con una battuta, il classico umorismo mio, invece questo ha detto, in 30 secondi ha detto praticamente cosa vorrebbe. Buonanotte.